Ehi frena frena, questo video è molto importante, in questo video potrei vincere ancora una volta un piccolo contest che ogni volta lascio a disposizione per tutti quelli che sono i miei iscritti, che lasciano like, che mi sopportano da giorno zero, trovando e dicendomi il minutaggio sotto nei commenti. Quindi, bando alle ciance, vi lascio questo video, molto importante, quindi guardatelo fino alla fine perché se no davvero non riuscite a capire come io individuo le coppie valutarie da tradare per ogni mese, senza far fare. Immaginate possedere una mappa del tesoro per i mercati finanziari, una mappa che vi sussura quando il gold andrà long, quando il gold andrà short, o quando il prezzo del petrolio salirà, o quando il prezzo del dollaro salirà o scenderà. Fantascienza, magia, molto spesso mi chiedono, Ale ma come fai a dire che in quel periodo di tempo ciò accadrà? Ebbene sì, la risposta è molto semplice, è la stagionalità il segreto di tutto questo. Vi farò un esempio rapportato a quello che sono, diciamo, una similitudine, una similitudine che vivete ogni giorno. Pensate alle quattro stagioni, l'estate porta il caldo, l'inverno il freddo, però i dividi, vero? Immaginate che i mercati finanziari abbiano le loro quattro stagioni, non dettate dal sole o dalla luna, ma dall'intricato balletto di psicologia umana, cicli economici e forze naturali. Questo è quello che è la stagione. Vi siete mai chiesti perché il cioccolato diventa oro liquido poco prima di San Valentino? O perché tutti i prezzi di quelle barrette, che possono essere l'Ind o altre marche, salgano proprio durante San Valentino? Ebbene sì, questa è la stagionalità. La stagionalità è come un fiume sotterraneo che scorre sotto i piedi frenetici dei trader di Wall Street, o anche di noi trader che attualmente tradiamo e che dobbiamo anche noi portare a casa il pane. Ebbene sì, come fanno tutte quelle persone a prendersi tutti quei trade? E come faccio io, trader, a dire ok, il prezzo della coppia trattata USD-JPY, che successivamente vedremo, salirà? E fino a quando salirà? Questa è la vera domanda. Tutto questo però, ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, giustamente ricordiamo ciò. Quindi la stagionalità è un ottimo strumento, ma bisogna anche sapere che questo strumento ha dei limiti. Quali sono i limiti? Che sola è alquanto inutile o comunque è utile fino a un certo punto, ma nel momento in cui la andiamo a combinare con quelli che sono tutte nostre analisi, possiamo tirare fuori davvero una bomba. Ebbene sì, io sono qua, oggi invece di relatore di questo piccolo video, vi ricordo ovviamente di lasciare un like, iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di video e di farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Oggi siamo su Mercy, non mi pagano niente, anzi anche io dietro ho comprato quello che è l'abbonamento e questo sito qua è super comodo, perché? Perché vi dà già lui la stagionalità. Un esempio di questa stagionalità e di come può essere utilizzata è proprio il fatto di scovare quelle che sono le coppie o le communities che in quel momento andranno short o long, in quel interminato periodo più che altro. E perché è così importante? Perché nel momento in cui abbiamo una stagionalità da lì possiamo intraprendere tutta quella che sarà l'analisi, tutta quella che sarà l'analisi del COT, l'analisi delle politiche macroeconomiche, tutte varie notizie. Tutto questo ovviamente sarà portato a quello che è la stagionalità e price action nel momento in cui ci darà l'opportunità si potrà entrare. Adesso andrò brevemente a farvi vedere ciò che ho visto e ciò che Mercy mi ha dato per questo mese. Non vi farò vedere tutto perché giustamente non è questo il senso e non è anche il senso promuovere ciò che la gente paga. Ok, per paga intendo paga il sito. Ok, giustamente quello. Io non vedo assolutamente niente, non ho intenzione di vendere qualcosa. Andiamo a vedere quello che è lo Yen e guardiamo un po' cosa è accaduto e lo guardiamo sia dal mio punto di vista che dal vostro punto di vista. Allora, innanzitutto abbiamo le medie, quello che sono le medie e per quanto riguarda le medie ogni medie ci dà quello che è stato la società in quei determinati anni. Ok, fino a una medie del 5, 15, 30 anni. Quello che ho notato, è tralasciando questo long da qua sotto fino a qua sopra, con un piccolo diviazione qua ma fa nulla. Quello che ho notato è stato proprio guardate qua, dal 23 agosto 2023 fino a quello che può essere un ipotetico, se vogliamo essere precisi. Quindi in realtà scendiamo fino a qua, fino a quello del 29 settembre, quindi un mese, un po' più di un mese, lo Yen è short. Ciò cosa significa? Se lo andiamo a fare in collaborazione con quello che è USGPY, ma io vi ricordo comunque di fare sempre tutta l'analisi su quello che è il future. Perché? Perché il future è il mercato reale, nel momento in cui analizziamo il USGPY ci possono essere dei problemi. Infatti adesso, allora in questa casa avete tutti i due grafici, avete lo Yen per quanto riguarda solamente lo Yen e il future, che comunque siamo nella zona che ci interessa per aver preso l'equità, e siamo sullo Yen per quanto riguarda il CFD. Adesso continuiamo a essere su CFD, ma utilizzate sempre il future. Per quanto riguarda lo Yen, che mi ha molto stravolto la cosa di qua, ho marcato il 29 agosto. Sì, abbiamo fatto un piccolo errorino, penso che si è spostato. Intanto usciamolo qua. Quindi qua non è 19, ma... Ah, ok, era per questa ragione qua. Sì, perché molto spesso dà dei piccoli errori, comunque... Se faccio così, va direttamente al 26. Se invece provo a modificarlo... Anzi, faccio una cosa, lo elimino, e teoricamente sì, adesso... Vado su quello che è... Ah no, ok, non me lo fa proprio fare... Ah, è 19 agosto, non è 19 agosto. E cos'è che è accaduto? Lo Yen, dopo avermi preso tutta l'equità che mi interessava in daily, di struttura, è finito in questa zona qua. No, in questa zona qua, solamente in questa zona qua, attualmente, questa non è una operazione che ho ancora eseguito, perché ovviamente non abbiamo tutto quello che è COT e fondamentale dietro che ci interessa, quindi... E soprattutto oggi ci sono usciti gli NFP, guardate che momento ha fatto. Vedremo settimana prossima se il COT ci viene a favore, ciò potrà darci comunque una bella entrata. Per quanto riguarda, come sto dicendo, la fondamentale, guardate che dal 23 agosto fino a quello che sarà un ipotetico 29 settembre, tutte le medie sono in discesa. Ciò cosa significa sul CFD del USGPY? Significa che andiamo long su quello che è il dollaro e andiamo short su quello che è lo Yen, ovvero che andiamo a comprare USGPY invece che andare short, perché solamente comprando andiamo a vendere quella che è la moneta dello Yen. E su questo ci sono tantissime, e dico tantissime, coppie, soprattutto che ci vengono fornite senza nemmeno che dobbiamo andare a cercare. C'è il Platino che è molto interessante, ho visto il Nasdaq, era un po' carino ma non del tutto, quello che era il Coffee, quello che era il Natural Glass, Natural Glass molto importante. e ce n'era un altro... no, il Platino, il Platino era molto interessante. Infatti per questo agosto io ho già delimitato quelle che saranno le mie entrate su ovviamente le varie coppie. C'è anche un'entrata sull'euro che vi voglio far vedere, che è molto interessante anche essa. Però era già di agosto, euro... Euro. Guardate cosa accade, abbiamo tutte le nostre varie medie, ma quello che mi interessa... Adesso siamo ad agosto, scusatemi. Agosto, guardate qual'euro? Dal 3 agosto l'euro, tutte le medie, a parte questo piccolo momento di tracciamento, però la direzione da rimane la stessa, dal 3 agosto fino a quello che potrà essere un 6, anzi, vi dico addirittura 8 settembre, l'euro sarà short. È molto interessante sta cosa. Vedremo di trovare quello che sarà un'entrata ipotetica attraverso il COT, sempre guardando i commercial, ricordo sempre i commercial, perché sono loro che dettano il mercato per gli swinger e che ci danno la possibilità di entrare e fare profitto. Io vi ringrazio per questa visione, vi ricordo che sempre all'interno di questo video ci sarà un'immagine che verrà nascosta e che vi fornirà la possibilità di vincere questo piccolo contest che ogni volta creo all'interno dei video. Vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio su quello che sarà il Williams, molto importante il Williams, perché anche quello è un fattore che ci delimita se entrare oppure no. Vi saluto e vi ringrazio.